Sotto il punto di vista della condizione fisica secondo me la scuola sta discretamente bene visto il periodo perché anche a Genova ha fatto una partita comunque intensa contro una squadra forte e abbiamo finito anche in crescendo quindi sotto quel punto di vista lì sono abbastanza soddisfatto per quanto riguarda chiaramente la crescita e gli automatismi sui principi di gioco questo è un discorso chiaramente più a lungo termine però questo non deve andare a condizionare la prestazione di domani cioè noi vuoi non vuoi comincia il campionato, noi domani dobbiamo essere pronti poi non saremo pronti come lo saremo a dicembre, saremo pronti diversamente però dobbiamo essere pronti per fare una partita importante per cercare il risultato pieno ci tengo a dire che incontriamo una squadra che viene da un percorso importante in questo periodo tutte le squadre sono a ricerca del proprio equilibrio, della propria identità la maggior parte quindi chi questo ce l'ha già parte avvantaggiato è una squadra che ha stravinto un campionato, è ripartita nello stesso identico modo nelle amichevoli piuttosto che nelle due partite di Coppa Italia una squadra che crede molto in quello che fa, lo fa bene una squadra che chiaramente, visto il percorso dell'ultimo anno, è a grande autostima in quello che fa come si affronta? le squadre hanno provato a affrontarlo in tutti i modi è una squadra che sa bene quello che vuole quando è in possesso di palla ma anche quando non è in possesso di palla quindi potremo sfruttare entrambe le situazioni questa è una piazza che ama la Reggiana lo trasmette, lo dimostra sappiamo che i numeri sono già importanti e quindi a maggior ragione dobbiamo arrivare pronti per loro domani pronti come atteggiamento io pretendo domani una squadra che diciamo così che dimostri che voglia provare a raggiungere i risultati in qualsiasi modo al di là poi dell'aspetto tattico che ci porterà a fare il Manto o che noi vorremmo fare contro il Manto cioè io credo che fondamentalmente gli addetti ai lavori prima della prima di campionato nessuno sappia veramente quale sarà l'equilibrio di questo campionato sicuramente chi, come dicevo prima, ha un percorso tecnico avanzato partirà avvantaggiato guardiamo già la partita di ieri sera non è un caso il Brescia viene da un percorso che viene da lontano e l'ha dimostrato nel rimanere dentro la partita in maniera più lucida possibile e quindi secondo me ci vorrà un tot di partite per capire veramente quale sarà l'equilibrio almeno iniziale del campionato quindi noi viviamo la partita del Manto va come la prima quindi chiaramente per i nuovi ci sarà più emozione esordire davanti al nostro pubblico per i vecchi la voglia di dimostrare di essere migliorati e di voler migliorare e quindi inizia un campionato come tutte le stagioni con tante incognite in Serie B che è il campionato probabilmente con più incognite di quelli professionistici non si fanno tabelle e non mi deve e non ci deve parlo a me, allo staff e alla squadra non ci deve interessare quando arriveremo a regime è abbastanza relativo iniziano le partite non voglio sentire argomentazioni che siamo un cantire aperto tutti cioè discorsi che valgono oggi poi domani sera dopo la partita non valgono più quindi per me e i miei giocatori non devono valere neanche oggi siamo una squadra che ha lavorato per arrivare alla partita col Manto e cercare di farla nel modo migliore e pretendo che la squadra sia focalizzata su quello io in tutte le amichevoli tranne quando ho avuto tanti ragazzini ho fatto giocare tanti ragazzi della primavera che ho adattato un pochino le loro caratteristiche ma se no il sistema di gioco non l'ho mai cambiato può cambiare l'interpretazione di un sistema quindi saremo sempre noi cercando chiaramente abbiamo preparato una partita per cercare di limitare il Mantova nelle proprie qualità e magari di cercare di enfatizzare magari i difetti come del resto sicuramente avrà fatto il Mantova rispetto a noi tra poco voi avrete la lista di convocati sono 23 calciatori e i convocati sono nel mio progetto tecnico per provare a vincere contro il Mantova domani poi quello che sappiamo della convivenza con una finestra di mercato aperta in quattro gare è figlio del nostro mondo ci dobbiamo convivere ma avrete una lista di 23 convocati chi c'è dentro deve provare a vincere la partita con il Manto e a me deve soddisfare tutto per la partita di domani tutto come i miei calciatori deve soddisfare tutto il contesto il contorno il mio staff se si ha questa mentalità si va oltre oltre a tutto e questo servirà non tanto per la prima di campionato che sembra molto demagogico magari è facile a parlare di campionato ma con i momenti difficili questa mentalità dovrà essere la regola per i miei calciatori e per me perché io ho bisogno delle partite per capire a che punto siamo arrivati la cosa che posso dare per certo che c'è una predisposizione all'apprendimento notevole in questo gruppo provano a fare tutto veramente tutto quello cui stiamo lavorando la differenza oggi tra automatismo o meno sono i tempi chiaramente i tempi sono più allentati quando tu pensi molto questa è un pochino la differenza e noi dovremmo saper convivere anche con con questo difetto iniziale che però non ci deve condizionare assolutamente sulla prestazione di domani arrivo con grande positività a questo a questo appuntamento a questo esordio perché ho percezioni sui miei calciatori molto positive so che non saremo perfetti domani so che sbaglieremo tanto ma so anche che questa squadra quando sbaglierà avrà una reazione sempre positiva all'errore quindi questo mi fa stare molto sereno grazie a tutti